Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nel cast di Temptation Island 2024 c'è una coppia che sta facendo parlare molto di sé. Raúl Dumitras e Martina de Ioannon. Insieme da dieci mesi hanno deciso di mettersi alla prova nel viaggio dei sentimenti su richiesta di lei, oppressa dalla gelosia ossessiva del compagno. Ma al di là del programma di Canale 5, Raúl ha attirato l'attenzione dei fan per un altro motivo. La sua ex fidanzata è famosissima. Prima di Martina, Raúl era legato a una nota tiktoker con oltre 340.000 follower. Si tratta di Alessia Antonetti, diventata popolare sui social lo scorso anno grazie ai suoi video culinari. Ora Alessia è una creatora che tratta diversi argomenti, non solo cucina. Riguardo alla sua storia con Raúl, le informazioni sono scarse. L'ultimo video insieme su TikTok risale al 5 ottobre 2022, suggerendo che la loro love story sia finita in quel periodo. La partecipazione di Raúl e Martina a Temptation Island ha destato molta curiosità, soprattutto per il passato dell'uomo con una tiktoker così famosa. Sarà interessante vedere come evolverà la loro relazione nel corso del programma e se riusciranno a superare le tentazioni che verranno loro proposte. Resta comunque il mistero su cosa abbia portato alla fine della storia tra Raúl e Alessia. Ma i fan non vedono l'ora di scoprire tutti i dettagli di questa storia.